Amici di Twitch, buonasera a tutti, buonasera e benvenuti, è sempre molto molto bello connettersi, collegarsi, vedere voi che chiacchierate tra di voi nella chat, insomma si è creata veramente una bella community, una bella atmosfera, sono molto felice di questo perché insomma si dice che la community rispecchi gli streamer e il canale e quindi noi non potremo essere più felici di essere rispecchiati da voi. Ormai la diretta è in secondo piano, loro si fanno gli affari loro e poi ci siamo noi che parliamo. Si è creato questo circolo, tipo se non disturbiamo. Ma non è vero, non è vero. Ok mi dicono subito, però questo glielo dico dopo la presentazione perché noi questa sera andiamo a presentare il Live Talks numero 220, ossia il nostro format di punta che va ad invitare quelle che sono le eccellenze all'interno dei vari ambiti della cultura pop. Quindi parliamo, giusto per darvi dei contesti, di WFX, di recitazione, di doppiaggio, di fumetto, di gaming, di musica, di creazione di contenuti, di sceneggiatura, di regia, veramente di tante belle cose. Tutto di più. Di comici, a proposito di comici avremo prossima settimana, insomma ve lo sveleremo poi, però chi ha visto Colorado sui canali media se sa. E questa sera invece siamo molto molto felici di avere con noi Laura Cosenza. Laura, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi di avermi invitata. È bellissimo averti qui, insomma. È bellissimo stare qui con voi. Mi dicono subito, perché se no mi scordo, Tommy, man, ricordati di dire a Laura che lo saluta Marco Mete, perché ieri abbiamo avuto Marco Mete come ospite. Wow! No! Ha detto salutatemi tanto Laura, che è una mia amica ed è fantastica. Proprio queste parole ha detto. Guarda che carino, sono molto contenta, sì, sì. Io lo adoro Marco, fra l'altro ci ho fatto, ci feci Angie di Shark Tale. Di Shark Tale, ce l'ho fatta. Sì, sì, sì. E proprio con lui, con Marco. È un gran bel personaggio, Angie. Un amico, un grande amico, una persona stupenda, oltre che un professionista, eccelso, eccelso, veramente. È vero, è vero, è molto forte, molto forte. Grazie che me l'hai ricordato, Tommy, perché io me ne sarei scordato sicuramente. Certo, proprio può metterci la mano sul fuoco. Prima di iniziare a bomba con Laura, fatemi innanzitutto salutare i nostri mod, sia la polizia del canale, Jackie Jack e Fanpage. Quindi potete dire quello che volete, essere anche in disaccordo con noi. L'importante è che lo fate sempre con educazione, in modo carino. Altrimenti arrivano i nostri mod che prima vi sospendono e poi vi bannano. Vado a salutare anche i nostri VIP, che sono gli irriducibili. Quindi Tommy, Rolando, Mr. Lannister e Simona. Ovviamente un saluto anche a tutti gli altri che sono connessi. Ciao a tutti gli altri. Willow, vuoi fare tu i comandi chat? I onori di casa. I onori di casa. Così poi andiamo a bomba con Laura. Benissimo. Ragazzi pronti per i comandi, ormai voi li conoscete meglio di me. Perché sei l'ultima arrivata. È da un anno sta storia che è l'ultima arrivata. Ci hai fatto fare, tra l'altro, fammelo dire Willow, nell'ultimo momento dal vivo lunedì, una figura veramente pessima, perché una cosa ti ho fatto fare, ho detto, sai, mi dispiace tenerla lì nelle retrovie. Willow, vieni a fare tu l'intervista e mi hai sbagliato per tre volte consecutiva il nome della persona intervistata. Anche quando gliel'ha detto giusto. Esatto. E dopo aver sbagliato il nome, dopo aver sbagliato il nome, lei ovviamente è responsabile Amazon. No, in realtà io sono tutt'altro, quindi proprio ho fatto l'Amazon. Ho sbagliato, era Leone, ho detto Lion. Vediamo se stasera riesci a dirli giusti i comandi, non farci fare brutta figura con Laura, anche perché poi ci giudica e dice che non siamo professionali. E certo, certo. No, vi prego. Soprattutto quello. Ecco, esatto. Quindi Willow, mi raccomando, vai, parti quando vuoi senza pressione ormai dopo questo intervista. E certo, non ce n'è proprio. Punto esclamativo Telegram, iscrivetevi per ricevere la programmazione e tanti bellissimi contenuti. Punto esclamativo Sub, potete abbonarti al nostro canale. Potete farlo gratis se avete Amazon Prime oppure a 3,99€ al mese. Facendo questo vedete le VOD senza la pubblicità, recupererete le nostre vecchie puntate e soprattutto potete iscrivervi al nostro altro canale Telegram segretissimo dove troverete noi e tantissimi altri ex ospiti. Punto esclamativo ospite vi riporta ai canali social della nostra stupenda Laura. Mi raccomando, seguitela senza stalkerarla. Punto esclamativo quote fa apparire per magia una frase storica detta da noi o dai nostri ospiti durante le altre live precedenti. Punto esclamativo partners, vi riporta ai collegamenti per i nostri partners che sono roba da doppiatori e le voci del doppiaggio. Punto esclamativo website per tutto il resto che troverete nel nostro fantastico sito. Ma secondo me sei andata veramente male Will, c'è veramente una lemma, che sei impicciata 4-5 volte. Cioè veramente, scusami Laura, ti chiedo scusa, veramente cosa approfondita. Ma legge? No, no, non legge, però le dovrebbe sapere a memoria però queste cose, è il duecentesimo, duecentoventesimo episodio. Ma Mauro, lei è l'ultima arrivata. Io ne ho fatto cinque. Lei è l'ultima arrivata. Lei è l'ultima arrivata. Questo credo sia il mio quinto o sesto talk, eh. Andiamoci via. Quindi in un mese ha fatto solo sei talks. Pensa te, si vede che insomma non sei, non eri pronta prima, no? Quindi è ancora colpa. Comunque, tergiversiamo troppo. Ritorniamo sul focus. Laura, guarda, noi non abbiamo nulla di preparato perché ci piace insomma vedere dove ci porta la conversazione. Abbiamo solamente una domanda, che è la prima, che è uguale per tutti, che ti vado a fare con un piccolo preambolo che è inutile, però piace alla chat, quindi te lo faccio ugualmente. Assolutamente. E il preambolo è questo, no? Noi magari usciamo la mattina, ci svegliamo, usciamo la mattina, incontriamo dieci persone, no? E in base a come ci poniamo con loro, se abbiamo preso il caffè, se siamo scontrosi o meno, queste avranno dieci immagini diverse di come noi siamo. Perfetto. Però è interessante secondo noi vedere il punto di vista dell'ospite. Quindi io ti chiederei chi è Laura, non tanto dal punto di vista professionale perché poi ne andremo a parlare, quanto proprio dal punto di vista di Laura stessa, per quel che riguarda aspetti caratteriali, passioni ed hobby che magari esulano o magari no, quello che è l'aspetto lavorativo. I miei hobby, vuoi sapere qual è il mio hobby più grande? Sì, a parte la lettura, perché infatti i libri che mi sono procurata per sollevare il telefono, come vi dicevo gli ho letti, perché sono una grande lettrice, onnivora di loro, qualunque cosa. E poi lo sport, lo sport che cambia a seconda dell'annata. Adesso sono entrata in fissa con la pole dance. con la pole dance, mi piace da morire e adesso ho anche comprato il palo, che verranno a mettermi la settimana prossima. Quindi adesso riempirò il mio profilo Instagram di tentativi di balletti intorno al palo, cercherò di essere il meno ridicola possibile, però ormai la mia fissazione è quella. Quindi mi troverete appesa al palo con i giorni, tentando di fare delle pirouette, delle cose tipo spaccate e cos'è, ci sarà da ridere. Spero anche di essere un così, non troppo, non troppo, come dire, ridicola, perché certe volte veramente mi vedo appesa al palo e dico, oddio, ma che sto a fa? Quindi non so, però ci sarà da ridere sicuramente. Ma no, ma che figata, che figata la pole dance, è molto particolare. Sì, la pole dance è proprio, ormai è la mia passione, devo dire, è la mia passione proprio, purtroppo lavorando tantissimo non riesco a praticarla quanto vorrei, però ecco, mi piace, tanto dico appunto, mi sono fatta mettere il palo a casa apposta, perché così ce l'ho a casa e posso esercitarmi. Nei momenti di libertà, bellissima, esercitare. Esattamente. È bellissimo, io lo dico per i malizi, non è la pole dance, quella associata allo spogliarelliste, la pole dance è veramente un'arte, nel senso se voi vedete quello fatta bene, cioè è veramente, sembra che danzino attorno a questo palo, poi è molto difficoltoso a livello fisico, perché comunque a testa è in giù. È molto performante, è molto, soprattutto impegna tutto il corpo, poi per tenersi sospese, perché poi c'è tutti esercizi appunto intorno al palo, in cui per tenerti in sospensione devi usare i muscoli, quindi è una cosa di una fatica mostruosa, tu vedi una cosa tutta così, capito, che fai di stoppaggio, giri intorno, fai la gamba del qua, la cosa della pare che stai a fare una cosa facile, no, è una cosa di una difficoltà mostruosa, soprattutto bisogna avere i muscoli forti, perché sennò cadi. Eh cavolo, devi avere una preparazione fisica quindi di base per poterla fare, cioè non è che tipo chiunque si inizia e può farla. Chiunque può anche iniziare, però ecco ha bisogno comunque di un training, poi ovviamente se sei muscolarmente preparato fai un percorso, se non lo sai ne fai un altro ovviamente, però ecco, soprattutto perché la pole dance la puoi fare a qualunque età, proprio io insomma seguo su Instagram una donna di 85 anni che fa delle cose pazzesche, che è andata anche a, non mi ricordo, era Australian Got Talent, anche vinto, una cosa incredibile, una donna di fare delle cose su quel palo, che tu dici, vabbè una robata, 85 anni. 85 anni, vedi? Poi ci sono io che invece mi alzo dalla sedia e ho il colpo della strega dietro alla schiena. Ma infatti ti stavo per dire, vorrei vedere te a fare una settimana. Io vi dico una cosa, sta cosa vi farà molto ridere, cioè pensate come sto, io ho avuto parecchia tosse e sta parecchia tosse mi ha mandato un giorno al pronto soccorso perché ho un dolore qua, che ancora non mi è passato, e quello ha detto, guardi, io sospetto una frattura della costola, però insomma lei è giovane, dovrebbe, dovrebbe avere tipo 90 anni per rompersi una costola tosse, e io, che bello. E torniamo al discorso di prima dell'età interiore. Esatto, quindi pensa se mi metto a fare anche la pole dance. Tra l'altro poi c'è un, diciamo, una specializzazione della pole dance, che è l'exotic pole dance, quella con i tacchi e arti così. Oh cielo. L'exotic. Ah, quella, e quella è praticata soprattutto moltissimo dagli uomini, per esempio. Con i tacchi? Sì, sì. Vedi? Sì, sì. È la tua, Mauro. Riesce meglio gli uomini che le donne. No, eh, potrei... Infatti, infatti, anche Chuck Spire dice questa qui dovrebbe fare il man, esatto. Ti devi mettere lì. Allora, quando la mia costola inclinata dovuta alla tosse passerà, allora... Potresti cominciare a fare l'exotic pole dance. Perché no, perché no, insomma. Perché no. Io mi ci vedrei bene, sinceramente. Sospetta che la mia è tratturata. Metti un palo lì in mezzo proprio alla stanza, davanti al divano. Esatto. E al posto. Vabbè, e quindi faccio anche le live mentre imparo. Eh, certo. Certo. Va bene, andiamo. Quando è il corso dell'eroe? Con una coreografia diversa ogni live. Beh, così scappa l'ospite prima di entrare in diretta. Poi ovviamente ci vorrà l'abbigliamento adeguato. I tacchi. I tacchi, tutto panda. Ovviamente. Ovviamente, ovviamente. Ma oltre ai tacchi, come chi la fa a buon livello, diciamo, ha detto, soprattutto i maschi, no? L'exotic. Come sono vestiti? Tipo i ballerini esotici? Oppure? No, dipende. Hanno di solito tipo dei pantaloncini, tipo mutande, tipo slip. Ah, ok. Mutande, tipo slip e maglietta, sì. Deve essere libero. Le gambe devono essere libere, si devono vedere le gambe. Quindi, diciamo, degli slip, come anche le donne. Noi abbiamo appunto dei pantaloncini, delle mutande, diciamo, mutandoni, ecco. Ok. E una pettorina, perché la pelle deve aderire comunque al palo, non puoi, perché la pelle che aderendo al palo ti tiene anche, oltre al muscolo, ti tiene attaccata. Crea attrito. Certo. Eh, certo. Che bello, che bello, no? Sì, no, è ben bello, è ben bello. Ti ringrazio perché non la sapevo, non la sapevo dell'Exotic Pole Dance, adesso andrò poi anche a cercarla a fine live perché sono molto curioso di vedere, insomma. Guarda, ma ci sono veramente delle, c'è questo ragazzo spagnolo che fa delle cose pazzesche. Cioè, è bravissimo, bravissimo, ed ha un snodato, ha un modo di muoversi meraviglioso, ma è proprio, guarda, è da vedere, è veramente un vero spettacolo. Bene, 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 lo vedrò, lo vedrò. Senti, Laura, invece sono curioso di, a proposito di passioni, no? Immagino anche che per fare il lavoro che fai a questi livelli molto alti c'è bisogno anche di tanta passione e tanta dedizione. Però sono curioso di capire se il tuo lavoro coincide con la tua più grande passione oppure se potessi scegliere qualsiasi altra cosa, cioè se magari c'è una cosa in più più grande, tipo fare sculture, non so, il musicista, la pop star, c'è quel qualcosa che tu dici, ok, quello che faccio lo adoro, però potessi scegliere, magari c'è questa cosa che mi piacerebbe un po' di più, oppure no, coincide. Vorrei fare una parte in Omar for, vorrei partecipare a questo Omar for. Omar for, che tra l'altro è famosissimo ma non ho mai visto poi. E' una grave mancanza, è una sette strepitosa, strepitosa, ecco questa è l'unica cosa che vorrei fare oltre al mio lavoro che amo talmente tanto a cui dedico la mia vita, perché è dedicata quella mia vita al mio lavoro, quindi mi comporta anche molti sacrifici, un certo tipo di vita perché, insomma, devi fare delle scelte, anche, insomma, ci sono volte in cui lavori il sabato, la domenica sei, insomma, non ci sono orari e non è, non è facile, insomma, non è un lavoro d'uffiso, ecco, non è un lavoro che tu dici, ho degli orari ben precisi, no, è un lavoro che ti prende comunque a 360 gradi, quindi, ecco, l'ho scelto perché lo amo, lo amo tantissimo, ecco, a parte Omar for, non sceglierei di fare nient'altro, è la mia passione. La tua passione più grande, che bello poi quando coincide, no? La passione più grande poi con quello che diventa effettivamente il proprio lavoro e quando poi si diventa veramente molto forti in quello, ma c'è stato, penso, insomma, che tu abbia fatto anche molti, essendo determinato, anche molti sacrifici, no? C'è stato un momento specifico in cui hai capito che questa tua passione sarebbe diventato poi il tuo lavoro? Cioè c'è un momento nella tua vita che associ al cambio di passo? Guarda, è stato, io facevo l'attrice soltanto, no? Facevo l'attrice, ho fatto il laboratorio di proietti, quindi ho fatto, insomma, ho fatto teatro per tanti anni e poi mi sono, diciamo, accostata al piatto in un secondo momento, ecco, ho cominciato proprio come attrice e poi c'è stato un momento in cui ho cominciato a non desiderare più di fare teatro, cioè dover rinunciare ai turni di doppiaggio che stavano cominciando ad arrivare, io poi ho cominciato, insomma, molto giovane, per rinunciare a quelli per andare alle prove, lì ho cominciato ad annoiarmi alle prove, perché star lì con l'orologio, Dio, voglio andare, devo andare al turno, devo andare al turno, ecco lì ho capito che è stato il momento in cui, il momento in cui ho lasciato il teatro per il doppiaggio, ho capito che era quello che mi piaceva di più, uno diceva, come lasci la carriera d'attrice, perché di qua, sì. Se ti piace di più, che poi sono due cose completamente diverse, cioè nel senso del teatro, stai davanti a un pubblico, tante persone, invece il doppiaggio sei sola, in stanza, col direttore, cioè sono due... Esatto, soprattutto c'è una differenza determinante, allora, un attore recita e fa quello che sente, no, è spontaneo, fa quello, recita lui, il doppiatore riproduce quello che fa un'altra persona, cioè tu con la tua voce devi coprire la faccia di un altro attore, quindi non è che tu inventi niente, tu devi recitare quello che recita lui nel miglior modo possibile, cioè cercando di riprodurre al meglio quello che lui ha già fatto, quindi recitare è doppiamente difficile, perché devi recitare qualcosa e rendere naturale una recitazione che non è tua, perché è quella di un altro, quindi far collimare la tua voce, la tua recitazione con la faccia di un altro è difficilissimo. E contenere un'esplosione, no? Mi viene in mente tipo un'esplosione di colore che però deve essere contenuta all'interno dei bordi di un disegno. Esatto. I bordi del disegno sono quello che ha già fatto l'attore in originale, l'esplosione di colore invece è tutta l'emotività, effettivamente l'interpretazione che dovete metterci e insomma detta così sembra magari facile come cosa, però è veramente molto difficile, cioè è tosta. Molto difficile, perché tu affidi alla tua voce, emozioni, tutta una gamma appunto di colori, come hai detto tu, un'esplosione di colori che deve aderire alla faccia della persona che doppi, quindi se ha gli occhi, il dolore che quel personaggio ha negli occhi tu lo devi riprodurre con la voce, perché? Perché nel momento in cui guardano quel personaggio in italiano con la tua voce, la voce deve assolutamente coincidere con il suo sentimento, con i suoi occhi che piangono, con i suoi occhi che ridono o con un sopracciglio che si alza, se tu non fai accompagnare questo sopracciglio che si alza, la tua voce non accompagna il sopracciglio dell'attore che doppi, la voce scolla dalla faccia, è molto difficile anche per questo. Senza contare poi che insomma io penso l'attore anche a teatro, comunque si fanno tante prove, anche il modo di studiare il copione e metabolizzarlo, invece il doppiaggio ti ritrovi là sul momento e devi farlo. Non provi, ti ho mangiato. E ti dicono, va bene, allora ciao, allora questo personaggio, dunque la serie è questa, magari comincina serie, no, ex novo. Allora, no, guarda, la tua è la vicina di casa, ha due figli, vabbè guardala. Eh, vabbè, allora guardo. Ah, ehi, e vai. Bella. Così no, probabilmente la storia, insomma poi lei si innamora, eh, vabbè guardala. Grazie. Per non parlare poi dei documentari, ecco, il documentario invece non le guardi proprio, ce le fai al volo, tu entri e dici, guarda, dunque lei è un documentario, per esempio io lo feci, eh, real house, oggi in inglese è proprio niente, marcello, real housewives of Beverly Hills, no? E niente, è una follia, ha detto guarda, è arrivata bene, allora tu, dopo questo che poi in realtà è la zia di Paris Hilton, è una riccona, una miffona riccona di Beverly Hills, beh, vai. Con gli adattamenti allucinati, tant'è che ho cominciato a fare una serie di storie su Instagram, sugli strafaccioni che erano scritti sui sti copioni, perché era una cosa da morire, da rire, noi in sala certe volte non riuscivamo ad andare avanti, che erano scritte delle cose allucinanti, tipo, ah, mamma mia, questa cosa che sto facendo mi sega tutta la patata. Scusa, ma che cosa ha scritto? Oppure, ma come ti sei vestita? Sembri una scappata di casa. A Beverly Hills, capito? È un modo di dire molto da Beverly Hills. Sì, ah, questa pure, si schiuma con questa giacca, a Beverly Hills schiumano sempre. Oh, stia, cavolo. Oh, stia, sì. A Beverly Hills schiumano in continuazione. E lì non le vedi, vai, vai, ti dicono, vabbè, sei la zia di Paris Hilton, vai. Vai. E va bene, vado. Vai, Maci. Rige su righe su righe su righe. Però, ecco, quella è un'altra, un'altra cosa, insomma, in più. Cioè, una delle tante sfaccettature del doppiat. Sì, in una stessa giornata puoi doppiare il documentario, il cartone animato, la sitcom, il telefilm, il film, è un lavoro molto vario. Ok, ok, è estremamente difficile, insomma, è veramente tanta stima perché poterlo fare con questa qualità e con queste difficoltà, a volte ci hanno anche detto che oltre a non poter provare e non potete neanche vedere, cioè perché ci sono questi pallini che si allargano sulla bocca e si stringono e che non ti fanno neanche a malapena vedere e capire il contesto, quindi è una difficoltà assurda. Guardare gli occhi, vedere appunto il sopracciglio di qui sopra, che devo fare se vediamo il pallino che si sposta? Oddio, oddio che devo dire? Tipo il gatto con la luce, no? Esattamente. Comunque fatemi di vista, cosa è anche abbastanza ridicola, nel senso firmate gli NDA, no? Quindi gli accordi di riservatezza, quindi avere questo pallino che si muove non fa altro che danneggiare, insomma, la performance, in quanto poi comunque la società è protetta perché ti fa comunque firmare degli accordi. Certo, certo, il non-disclosure agreement, ma sono santi inglesi oggi. Questo è ottimo. Ecco, questo hai recuperato tutti gli altri, che era la più difficile di tutti da dire, cioè, è incredibile. Sì, e quindi non possiamo divulgare niente, no? Quando mi dicono, no, ma che stai facendo adesso? Ma sta facendo una serie per Netflix? Ah, quale? Non si può dire. No, su questo è stato divertentissimo perché mi sembrava Irano. Vairano a Pescara ce l'ha detto, sì. Ci raccontò che quando annunciarono, cioè quando lo chiamarono per dirigere la nuova serie, tutti quanti chiedevano, ma quindi che stai facendo? E lui ogni volta si inventava una cosa assurda, tipo un documentario sulle mucche a Brunellesi, cioè tipo una cosa del genere. Ed è effettivamente un gioco al massacro perché poi non ne puoi parlare, ma allo stesso tempo, cioè, coesisti con delle persone all'interno degli studi, quindi è quasi impossibile non far trapelare proprio nessun tipo di informazione. Quindi è un gioco dell'oca, però al massacro, praticamente, fino ad arrivare all'uscita del prodotto. Esatto, è vero. Io mi ricordo anche quando disse che c'era penali di 250.000 dollari, una cosa del genere, in caso di fuoriuscita del prodotto. Penali, anzi, non solo, ma anche di milioni di euro. Per disincentivarti a provare a fare cose. Certo, è certo. Guarda anni. In Italia, poi in Spagna escono fuori i doppiatori che fanno sci. Ma quello non avrà più lavorato, poraccio, cioè, sarà sfuggito. È sfuggito, però intanto è sfuggito, è una cosa importante. I tomo hollando del doppiaggio, insomma. Prego, Andrea. Allora, sì, Laura, io volevo farti una domanda che potrebbe sembrare particolare, in realtà forse lo è. No, scherzo. Volevo chiederti, se tu dovessi descriverti con un unico oggetto, e quindi rappresentarti con questo unico oggetto, quale sarebbe e perché? Ah, e questa è una domanda veramente tosta. Vero. Andrea. E allora, come un oggetto? Eh sì. Un oggetto o... Poi non ha detto una serie di oggetti, ha detto proprio un unico oggetto. Un oggetto. Un unico oggetto. Difficoltà estera. Ma se vuoi dire la crostata? Come no? Certo. La crostata. Certo, di qualunque cosa. Sì. Io sono curioso di sapere il perché, però, ti rappresenti come una crostata. La crostata, allora, la crostata perché? Perché è, a parte il mio dolce preferito, quindi, però oltre a quello la crostata è dolce, però croccante, e non è troppo, ed è un dolce secco, non è un dolce pomposo, quindi che cosa significa? Che comunque io sì, sono una persona estremamente dolce, però molto determinata, molto croccante, nel senso che sì, dolce, però... Resistente. Attenzione. Dolcissimissima, ma attenzione. E poi credo che la crostata rappresenti anche il mio lavoro, nel senso che è dolce, ma croccante, allo stesso tempo. Cioè, mi dà tante soddisfazioni, però anche è tanto, tanto difficile, tanto... Ci sono tante barriere da superare, per tante cose è ostico. Quindi sì, la prima cosa che ti dico che mi è venuta in mente è questa, perché c'è sia il croccante, il dolce, il morbido, però la crosta è più croccante, poi c'è una parte più morbida, però c'è la marmellata che è molto dolce. Però poi dipende dalla marmellata, la marmellata può essere una marmellata di fragole, come una marmellata di agrumi, che non è troppo dolce. Quindi, capito? Questo mi ha fatto... È un insieme di... Particolare la crostata. Sì, è... La crostata fa coesistere un perenne bilanciamento. Esatto. Cioè, a un elemento morbido della crostata ne corrisponde uno più duro, e a un elemento più dolce della crostata ne corrisponde uno più aspro. Esattamente. Guarda, non potevi esprimere meglio quello che volevo dire. È stato bravissimo. All'inizio pensavo stessi descrivendo un tronchi, Andrea, cioè morbido dentro, per tante fuori. Poi quando hai detto aspro... Però pensaci, però pensaci. È vero. È vero. È vero, è vero. Sì, è proprio così, è questo. Le varie scaccettature, perché il mio lavoro è un bellissimo lavoro, ma è tosto, è tosto, è tosto, perché... Anche perché poi, paradoss... Cioè, drammaticamente, man mano che vai avanti, no? Ovviamente le parti si riducono, no? Si riducono, quindi tu... Da una parte hai, diciamo, questo tipo di problema. Dall'altro è un lavoro che ti dà la possibilità di reinventarti in tante cose. Il direttore, il adattamento. Cioè, è un lavoro che oltre a solo il doppiaggio vero e proprio come attore, ti dà la possibilità di esprimerti anche in altri modi. Quanti attori, doppiatori fanno anche i direttori? Il direttore, per esempio, la parte del direttore è la parte del proprio... è il vero e proprio regista di tutto. Cioè, tutto dipende da lui. Come tanti attori, i doppiatori fanno i direttori e fanno gli adattatori, perché l'adattatore è quello che alla base crea proprio la magia. Nel senso che se tu arrivi in sale e trovi appunto un adattamento dove c'è scritto appunto si schiuma, se trovi un adattamento fatto bene, reciti da Dio e benedetto il Signore che ha scritto quello che ha scritto, capito? Gli adattamenti poi sono un discorso molto, molto particolare, soprattutto nel tuo caso, ma non vado a dire niente adesso, perché ho visto che in chat c'è una domanda su quello specifico prodotto, quindi arriverà dopo quella domanda. Però sì, l'adattamento è una parte, secondo me, che è veramente nascosta agli occhi delle persone. Cioè, finché funziona, è nascosto. Quando invece c'è qualcosa che non torna, è la prima cosa che noti. Esattamente. Non c'è mai il premio, no? Il premio del riconoscimento. C'è solo l'offesa. Diciamo che il premio del riconoscimento è a livello professionale nostro, perché appunto vinci dei premi, no? Se fai una bella cosa, una cosa riconosciuta, eccetera, vinci anche dei premi, quindi questo è riconosciuto. Però poi, diciamo, quello che ha il clamore lo fa poi l'attore doppiatore, ovviamente, tutto quello che c'è dietro, magari il direttore, per esempio, anche il direttore, no? Ci sono attori bravissimi che con un direttore bravissimo diventano eccelsi. Perché? Perché appunto un direttore come Marco Mete, credo che sia in grado di fare citare anche il mio cane, Orazio, che adesso sta mettendo l'ossu. Capite? Cioè, sono delle figure. Poi appunto, ovviamente, l'apice, diciamo, la punta dell'iceberg, poi l'attore doppiatore. Però, chi fa parlare l'attore doppiatore, il direttore o il testo che l'attore doppiatore recita, sono elementi fondamentali e determinanti di tutto il processo. Questo tengo a dirlo, insomma. Ok, ok. Willow, prego. Allora, io faccio riferimento a una serie tv che amo tantissimo, di cui tu hai curato l'adattamento, che è Ghost Whisperer. Sì! Io l'adoro tantissimo. E ti volevo chiedere, qual è il tuo rapporto col paranormale, con tutto quello che c'è al di là del visibile? Guarda, io ci credo tantissimo. Io ci credo tantissimo. Credo che ci siano delle presenze intorno a noi. Delle presenze che ci... Guarda, forse negative, no. Non riesco a vederle come negative. Io sento delle presenze... Credo ci siano delle presenze positive. Delle presenze positive che ti danno forza, che ti proteggono. Che ti... Alle volte ti indicano la strada da percorrere anche. Alle volte sento proprio come se ci fosse qualcosa accanto a me. Non vi saprei spiegare come, però io sono convinta che ci siano delle presenze. Adesso io non so se queste presenze siano persone morte, l'anime degli antenati, mio padre. Questo non ve lo so dire. Però io sento... Alle volte non mi sento sola, ecco. Sento... Sì, ci credo moltissimo. Ci credo moltissimo. Ok. E c'è qualcosa che... Come dire... Se pensassi a qualcosa che non ti facesse passare oltre, cosa potrebbe essere? In che senso una cosa non mi facesse passare oltre? Sai, sempre con Ghost Whisperer, no, c'erano gli spiriti che erano bloccati perché non... Giusto, ma l'ero scortata. Cosa... Una cosa che non mi facesse passare oltre, cosa sarebbe? Beh, sicuramente... Sicuramente la rabbia che provo per certe cose. Certe volte la rabbia che provo per determinate cose è eccessiva. E quella è il fatto di avere degli eccessi di... Non di rabbia, di esprimere rabbia, però prendermela troppo per determinate cose è qualcosa che mi... Su cui io lavoro moltissimo e che mi impedirebbe di passare oltre, perché è comunque un ancor, una zavorna. Non mi dà la possibilità di spiccare il volo. Ecco, questo... È comunque legato a un senso di giustizia molto probabilmente. Cioè, quella cosa è da riparare, da mettere a posto perché è una cosa che è sbagliata. È proprio... Ma me la prendo proprio. Tipo qua, quello è raccomandato. Ho capito, è raccomandato. È che ce dobbiamo fare. È pazienza. Perché non è giusto? Perché quello... Perché no, è giusto perché quell'altro vale di più. Perché quello che vale di più è andato affatto meno? Questo senso di giustizia, sì. Però... E certe volte me la prendo in maniera eccessiva. Anche nella vita, se mi capitano delle cose magari ingiuste, no? Capitano delle cose. Quello mi passa davanti alla posta. Io divento una belva. Qualcuno... No, divento una belva. Un erini. Comprensibilissimo, guarda. Però poi tu dici, ma perché? Cioè, che senso ha? Non serve, no? Dici, vabbè, passare davanti. Che dobbiamo fare? Poveraccio te che sei... Che te stai ancora... Sei ridotto così che devi passare davanti a una persona. Ecco. Cerco di conquistarmi il mio passaggio oltre pensando queste cose e lavorando in questo senso. Bene, bene. Però è fastidiosissimo quando ti passano davanti. È difficile. E poi come ti passano davanti? Con una nonchalanza. Cioè, ti spiazzano e vedono tranquillamente che stai là. Di colpo, plum. E poi si guardano intorno, no? Come per dire... Sì, sì, sì. E tu dici, scusi, ma... C'è una fila, cioè... No, no, no. Questo... File? Dove stiamo andando non ci sono file. Esatto. Sì. Esattamente. Quello che, che ne so, che te stai in un negozio e te... Devi parcheggiare, per esempio, ti frega il posto. Oppure devi girare e non ti fa passare. Io mi avveleno. Poi dico, ma perché? Ma perché? Eh, però... L'istinto, l'istinto. Quelli alle poste non tocchiamo l'argomento, scrivono. È vero. Non tocchiamo l'argomento poste. Tanto poi c'è il karma, quindi... Esatto. Questa persona è qua. Perché dopo la fila devi arrivare davanti all'operatore. Credo. È la posta... Non perdona. È divertente. È uno sketch di per sé, la posta. È uno sketch di per sé. Laura, abbiamo parlato di quanto possa essere bello, ma anche di quanto possa essere duro, no? Io ti chiederei qual è stata la difficoltà più grande che ti sei trovata ad affrontare e come l'hai superata. Perché sappiamo che poi le difficoltà non sempre riescono a superarsi. Sì, alcune devi anche essere forte tu, no? A poterle superare in modo tale che poi non ti vadano ad affossare. Quindi ti chiederei qual è la tua difficoltà più grande che hai dovuto affrontare. La difficoltà più grande che ho dovuto affrontare è stata, mi ricordo, quella... Ero molto giovane ed ero una bella ragazza e mi vestivo in maniera un po' eccessiva. Mi ricordo che Luca Ward, che è stato poi fra l'altro il mio grande estimatore, che poi insomma si dedicasse meno al doppiaggio, no? Mi ricordo con lui feci Ossì, feci anche altre insomma lavorazioni importanti perché lui aveva molta stima di me e lui una cosa mi disse. Mi disse Laura, ricordati che quando si viene al lavoro ci si veste in una certa maniera. Quindi il fatto di dover far rinunciare a determinate cose che erano della mia gioventù, che erano del fatto che ero una bella ragazza e quindi andavo in giro con... smutandata praticamente. Questo però, dover rinunciare al fatto che a me piaceva esibirmi, che mi piaceva vestirmi in una certa maniera, che mi piaceva il mio cane, scusate... rinunciare a quello che io ero, no? Certo. E soprattutto, soprattutto, farmi perdonare il fatto che io non ero solo quello, ma io ero molto altro e non ero soltanto il capello biondo, una bella ragazza bionda con la minigonna, è stato complicato. È stato complicato perché nessuno mi dava credito, nessuno mi dava... Purtroppo si fermava solo all'immagine e questo me lo disse Luca World, ho detto Laura se tu non vai oltre questa cosa, ricordati che l'abito fa il monaco, non ce la fai. E io gli ho dato ragione, gli ho dato ragione e l'ho seguito. Ho rinunciato a determinate cose di miei vent'anni. Ok, quindi hai dovuto rinunciare, diciamo, a una parte della tua personalità, che in quel momento comunque era importante. Sì, in quel momento per me era preponderante, per me era preponderante vestirmi in una certa maniera, essere, appunto, avere questa femminilità molto esuberante. Ero così, io e Laura era così. e quindi cercare di far perdonare questo lato di me è stato difficile. Cioè farmi prendere sul serio è stato veramente molto difficile. Cioè far capire che io ero comunque una professionista, una che voleva fare questo lavoro, che era comunque intelligente, che aveva delle carte da giocare, che aveva fatto il laboratorio di proietti, che era un'attrice, che non era soltanto una che magari, sì, ha fatto anche la valletta quando ero ragazza. Però, ecco, far perdonare queste cose è stato complicato. Farmi prendere sul serio è stato molto, molto difficile. Insomma, forse è una cosa anche legata a quei tempi, perché in realtà forse ora è più forte dell'abito, non fa il monaco. È più forte, però purtroppo ancora c'è. Cioè nel senso io sono dell'idea che è brutto dire l'abito fa il monaco, però effettivamente ti rendi conto quanto nella società anche attuale l'abito fa il monaco. Perché ad esempio se tu lavori in una grande azienda, fai il manager e ti presenti in tuta, già gli altri pensano ok questo che ho visto si è presentato in tuta invece che giacca e cravatta. Però magari quello in tuta è un genio e quello in giacca e cravatta che l'abito è. Esatto. E non sa fare due più due. E quindi è anche brutto poi fermarsi alle apparenze. Secondo me sarebbe molto più bello lasciare che le nostre personalità emergano e che più che... Andare oltre. Esatto, andare oltre e sentire quello... Esatto, e sentire quello che si ha da dire e sentire veramente le reali competenze. Perché poi è bello... No, si parla di un mondo giusto, buono e dove in un certo senso si lascia spazio all'oggettività e al merito. Queste componenti purtroppo nel mondo poi reale in cui ci caliamo non sempre sono presenti. E quindi, cioè, mi viene in mente proprio un altro esempio che non c'entra niente adesso con il caso specifico di Laura. Ma Marco Masini per un sacco di anni non ha lavorato perché c'era la voce del corridoio che portasse male. Esatto. Cioè c'è gente che c'è morta per sta cosa che si è ammazzata per sta cosa. Mia Martini. Insomma, non è da prendere alla leggera. Quindi, purtroppo anche oggi in modo diverso però anche oggi c'è un po' questo... questa cosa che devi stare attento alla prima impressione. Perché se la prima impressione è negativa è difficile. No, in quasi tutti i campi. Esattamente questo. Certo, ho dovuto far perdonare il fatto che ero bionda, diciamo. E quello è stato molto complicato. E ci credo. Che è una cosa assurda. È una cosa assurda. Infatti, nel più piccolo prendo sempre a chi me lo dice come sempre il dottor House, no? Quando dice il medico deve essere... Gli ho detto ma scusa, tu preferisci avere un medico che sia preciso con la cravatta o il camice e poi... Perché sulla salute le persone sono molto più toccate, no? E poi muori. E poi muori. Oppure preferisci quello burbero che ti è sciancato in jeans e camiciati fuori però ti cura. E no, preferisco quello burbero che ti cura. E allora applichiamo questa filosofia anche a tutto il resto, non solo alla vita perché è la tua e allora ci credi. È capito... È un pensiero egoistico quello delle persone perché l'unica cosa che in questo periodo storico vive di più del giudicare gli altri è il senso di egoismo. Cioè se una cosa tocca a me allora è sbagliata. Se toccate non mi interessa. È un concetto su cui si sta piano piano lavorando per superare il limite. Speriamo che un giorno potremo magari trovarci a non fare più questo tipo di discorso perché magari si capirà che il libro lo devi leggere e non basta vedere la copertina perché... Esattamente questo. Esattamente questo. È stato... Questo è stato veramente un grosso scoglio che ho dovuto separare che ha tardato molte cose della mia carriera il fatto di... che... non mi prendevano sul serio. Quindi ho faticato molto. Ok. Chiaro. Grazie Laura insomma per averlo condiviso. Se vuoi. Allora facciamo un ultimo giro di domande di Andrea Willow poi social partners e apriamo la chat. Ricordiamo chat che dovete fare come di consueto ossia evidenziare le domande così che io scorro e mi fermo solamente dove vedo evidenziato. Usate il gigo. Dici. Devo chiedere soltanto una cortesia siccome ho visto che si sta scrivendo mi devo un attimo... Ecco va benissimo. Vi porto con me vi porto con me No. Che bello facciamo un home tour si dice home tour? Ecco facciamo un tour ecco mi metto qui e attacco il... mi vedete bene? Come no? benissimo benissimo Ancora meglio perfetto ecco ho attaccato ecco vi porto in giro per le mie case stupendo io nel frattempo colgo l'occasione per fare un F5 mi vedrete sparire un attimo e ritornerò subito così così il labiale andava leggermente asincrono adesso per colpa del programma eccomi qua ogni tanto abbiamo il programma che di colpo manda leggermente fuori sincone voci quindi basta fare un reset velocissimo come quello che ho fatto e ritorna tutto alla normalità sta cosa va segnalata per la streamyard assurdo paghiamo per un servizio esigiamo questo servizio deve essere buono giusto? hai ragione sono d'accordo giusto verissimo bene bene allora quindi Andrea anzi ho fatto iniziare a te prima adesso faccio iniziare Will grazie la galanteria non è sparita no non è galanteria è che prima per caso ho scelto Andrea adesso te è giustizia hai capito non è galanteria è puntata è equità ok ho visto che hai dei bellissimi tatuaggi hanno una storia ce ne vuoi parlare? allora io sono fissata con i tatuaggi se potessi mi tatuerei da capa a piedi però insomma non lo faccio perché insomma non ho più vent'anni ecco però dunque alcuni hanno veramente un grosso significato tipo ne ho uno qui sulla spalla ve lo faccio vedere sono molto fiera questo non so se si vede va bene che bello è un tramonto un tramonto africano perché io amo amo l'Africa infatti a giugno andrò in Uganda e adoro l'Africa e quindi mi sono tatuata appunto questo tramonto africano che mi è rimasto nel cuore qui sulla spalla poi ho diverse scritte le iniziali dei miei nipoti che amo alla follia ho un'altra scritta qui che è sul sumcorda che vuol dire in alto i cuori sempre a testa alta e poi non so conoscite stesso in greco Gnotis Euton sul costato per il resto sono tutti decorativi ho tantissimi tatuaggi tanti tanti però sono tutti decorativi puramente questi sono tutti mandala il nome del mio del mio cane Orazio non so se si vede per il resto sono tutti decorativi tutti 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 ne ho tantissimi dietro sulla schiena sono uno enorme gigantesco che prende quasi tutta la schiena ed è un mandala gigantesco tutto tutta una cosa e una più io sono sempre stato affascinato dai tatuaggi però ho sempre avuto paura del lago cioè ero uno di quelli che faceva il prelievo e dove ha guardato un'altra parte se no sveniva quindi ma sono effettivamente molto dolorosi da farsi sì vedi sì quello sulla schiena è stata una roba quello uno dei più dolorosi è stato quello che ho sul ne ho uno sul fianco ok è sempre un mandala piuttosto articolato e quello è stato dolorosissimo quindi alla fine io ho detto te prego vado a metterlo ho un pezzo un pezzo domani non ce la faccio eh cavolo ci credo perché poi a seconda anche del punto dei nervi insomma ci sono delle zone più sensibili che ti fanno molto male delle zone veramente quelle dove c'è poca la pelle è molto sottile tipo lo so sulle caviglie però per esempio sulle caviglie io non ce le ho perché le gambe non mi piace tatuarle ho solo la parte superiore però ci sono dei punti in cui sul costato per esempio ho una piuma una piuma molto grossa sul costato quello è stato ecco quello è stato il peggiore quello veramente sudavo perché poi quello è colorato di solito sono quasi tutti in bianco e nero quello sul costato è stata una roba ho detto vabbè adesso muoio ma che me l'ha fatto fa a me di fa a me sto tatuaggio che poi una volta iniziato non puoi neanche bloccarlo dire ferma metter me dici no fai avanti come un solo uomo e dici dei sopporti lì invece sulla spalla no sulla spalla che è piuttosto elaborato sono diversi colori eccetera no questo sulla spalla mi ha fatto poco poco o niente come anche questi questi sulle braccia sulla schiena tanto male sulla schiena sul costato sul fianco quelli sì quelli sì sono terribili è vero io so io ammiro cioè ammiro l'arte però penso che la guarderò e basta la troppa paura del lago che entra esce in continuazione per ore su punti per ore puoi farti quelli all'ennè che poi dopo un po' quelli sì quelli quelli me li posso fare infatti un paio di volte quando ero piccolo me li sono fatti quelli con l'ennè ma il problema è che poi ti affezioni poi ti piacciono te le vuoi fare eh lo so lo so però la paura però poi c'entra la paura e quindi mi ferma tutto ma sai che no 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 come fatti fare l'anestesia Mauro perché si fanno fare anche l'anestesia con i tatuaggi no non è vera sta cosa Lucio Lucia che scrivi oddio volendo potresti anche pensandoci bene potresti anche comprare una crema anestetica che tu potresti mettere tranquillamente in effetti ma pensandoci uno può finissimo mettere la crema anestetica il dolore diminuisce si può tranquillamente volendo vedi quindi adesso te devi fare un tatuaggio te metti la crema anestetica e te fai il soppello c'è sempre il problema ago che noi e l'ago non andiamo d'accordo però questa cosa è buona la schiena non lo vedi te lo fai sulla schiena io mi ricordo ancora mi dissero quando mi fecero i prelievi questa cosa è buona perché vorrà dire che non ti drogherai mai con l'ago effettivamente così è andato ci sono tanti altri modi però con l'ago non è mai successo quindi avevano leggero la faccia di cavalli sulla schiena no no Andrea allora allora Laura io volevo chiederti di un prodotto di cui avevamo avuto modo anche di parlare per righe molto vaghe mettiamola così quando ci siamo sentiti una delle prime volte che è un prodotto che hai doppiato per Netflix che è Pamela a Love Story ma in realtà non del prodotto specifico adesso sono andato a ricercare un post che avevo visto tuo dove hai scritto volevo essere come lei ed ora sono la sua voce quindi volevo chiederti più che altro qual è stata l'emozione nell'approcciarsi a questo tipo di prodotto e soprattutto come hai vissuto proprio l'esperienza nella sua totalità beh allora contando il fatto che io appunto quando ero ragazza per me lei era proprio il mio punto di riprendimento io volevo essere come lei quindi appunto mi vestivo come lei nel senso appunto smutandata in continuazione mi facevo i capelli come i suoi cioè per me lei era proprio periodo anni 90 per me era proprio il massimo e il fatto quando mi hanno insomma poi fece il provino eccetera e poi mi dissero che l'avrei doppiata è stata veramente una bella emozione perché tra l'altro lei è proprio una donna che ha tante staccettature che è stata una donna che è stata appunto sempre mal giudicata per il fatto che per il suo fisico per il fatto che era appunto per quello che ha fatto per tutto quello che è sullo scandalo che c'è stato eccetera però il fatto che lei comunque venisse sempre giudicata per quello che era fisicamente per il suo modo di atteggiarsi eccetera non fosse mai considerata per quello che era veramente cioè una donna che è stata abusata da quando era piccola una donna che aveva tanti conflitti tante sfaccettature del suo carattere che lei poi tra l'altro è stata nel corso della sua vita un attivista e una che si è sempre dedicata agli altri ma tutte queste cose non sono state mai prese in considerazione era soltanto il puttanone che aveva fatto i video con il marito sulla barca questo ci ricordiamo poi di lei il fatto che lei tutto il volontariato che lei ha fatto tutti i soldi che ha dato in beneficenza e l'attivismo che ha fatto e tutto il resto tutte queste cose poi alla fine sono state dimenticate e anche lei fra l'altro ha dimostrato di essere una brava attrice perché adesso sta spopolando a Broadway con Chicago quindi lei adesso che ha 55 anni 56 anni è riuscita finalmente ad avere una come dire un riscatto di tutto una vita e tutta una carriera dove l'hanno sempre giudicata male dove l'hanno veramente distrattata l'hanno l'hanno sempre considerata non l'hanno mai presa sul serio e lei aveva delle cose da dire aveva delle cose quindi il fatto di dover dover toccare proprio lei non un'attrice che la rappresentasse ma lei per me è stata una grandissima emozione grandissima il fatto di darle la mia voce le mie emozioni è stata veramente una bella esperienza io sono stata molto molto felice di farla poi arriva in un momento particolare perché da poco insomma c'era stata la serie che poi lei stessa diciamo ha attaccato in un certo senso che è Pam e Tommy e qui proprio si mette in prima linea cioè un prodotto su cui inizialmente avevano chiesto diciamo il riconoscimento da parte sua poi non c'è stato ovviamente niente da fare perché hanno stravolto un po' di cose che vengono mostrate però beh decide di metterci la faccia quindi di riscendere nuovamente sul piano di chi l'aveva criticata di chi l'aveva giudicata e metterci del suo direttamente senza passare da nessuna maschera è un prodotto secondo me interessante ovviamente meno romanzato rispetto a appunto Pam e Tommy per ovvi motivi però è molto più crudo è molto più vero è molto più diretto al pubblico una cosa che veniva criticata appunto la serie Pam e Tommy è che alcuni messaggi venivano lanciati ma lasciati un po' lì cioè non c'era stato il coraggio di dare proprio un pugno nello stomaco quel messaggio che lanciavano ma era una cosa un po' per dare un contentino ma non appesantire troppo la visibilità qui non gliene frega niente cioè qui se deve passare un messaggio passa ed è giusto che sia così perché alla fine è la sua storia ed è giusto che alla fine trovi una rivalsa trovi un punto di ritrovo sì lei comunque è una donna che ha sempre dichiarato le piacevano gli uomini l'ha sempre dichiarato io non ci trovo niente di strano perché perché condannare una donna una bellissima donna che è innamorata dell'amore e che quale donna non è poi di media innamorata dell'amore quando è molto giovane quando è anche meno giovane perché perché lei è stata messa così tanto alla berlina lei ha veramente sopportato ha sopportato rispetto a tutto poi quello che ha avuto in realtà ha dovuto anche sopportare tanto tantissimo adesso sta avendo un momento diciamo di rivincita di rivalsa no ha 56 anni è vero è una storia che ci portiamo dietro da un po' prima di trovare una vittoria è capito cioè finalmente è riuscita anche grazie al figlio perché il figlio lei ha due figli uno dei due è quello che poi l'ha convinta a fare questo film eccetera a mettersi proprio a nudo completamente a raccontare se stessa in tutto e per tutto quindi sì sono stata molto felice di doppiarla di darle la mia voce l'ho fatto proprio con piacere ho cercato di dare il massimo ovviamente con le tempistiche che abbiamo avuto perché poi quello era un film documentario quindi io le doppiavo senza neanche vederle quindi le ho proprio insomma è stato un lavoro velocissimo in cui ho dato il massimo ed è stato estenuante estenuante veramente veramente tanto tanto sì proprio finivo i turni che ero distrutta immagino allora nel frattempo fatevi dire siete delle bruttissime persone perché mi è arrivato un meme su di me nello specifico siete proprio brutte e ve lo faccio vedere così così vi faccio vedere sì finestra fammi eccolo qua vediamo se ecco i miei amici a 30 anni io a 30 anni con la mia faccia su un vecchio in carrozzella cioè siete veramente pessimi ma poi guarda come si impegnano guarda guarda l'accuratezza della mia faccia da vecchio cioè potrei essere tranquillamente io tra qualche anno bellissimo i miei amici a 30 anni che brutte persone che siete sappiatelo vergognati c'è un velo che bello mi ha fatto ridere però carino dovevo farlo vedere perché sono geniali a volte sono geniali a volte geniali abbiamo dei mimatori si dice mimatori sì 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 un neologismo ormai l'hai detto infatti però povero Mauro che gentaccia che c'è in giro ti ha ringiovanito però in questa foto ma che mi ha ringiovanito in questa foto va bene Andrea ti vogliono bene mi vogliono bene tutti è bello vedere quanto mi vogliono bene Andrea domanda di social partner se poi andiamo con la chat sì allora Laura Robert Adoppiatori ti chiede potendo ricominciare la tua carriera da capo cambieresti qualcosa o rifaresti tutto come hai già fatto cambierei una cosa sì cioè non andrei più a fare tournée lunghe di sei mesi all'inizio della carriera perché ho perso tantissime occasioni all'inizio mentre la mia carriera di doppiatrice stava stava decollando in varie situazioni io poi partivo in tournée sei mesi e poi tornavo e ricominciavo da capo questo sempre perché volevo appunto fare teatro questo parliamo sempre quando avevo appunto molto molto piccola questo lo cambierei ecco mi dedicherei soltanto al doppiato perché il teatro devo dire la verità mi ha dato poi non mi ha dato le soddisfazioni che mi ha dato il doppiaggio questo lo cambierei solo questo però di resto no bene bene ci sta insomma è un cambiamento come hai detto un cambiamento in un momento magari particolare dove avevi un trampolino di lancio da una parte poi io partivo che ne so poi facevo anche grosse compagnie perché andavo con il Sistina con i grossi teatri poi ballavo anche quindi facevo anche belle cose grosse cose però ecco diciamo che al netto le soddisfazioni che mi il il senso di appartenenza che mi ha dato che mi dà il doppiaggio e il mio ambiente perché ormai poi sai il nostro è un ambiente piccolo nel senso che adesso vabbè ci sono tanti ragazzi nuovi che fanno tante nuove leve eccetera eccetera però poi quello che è lo zoccolo duro del doppiaggio diciamo noi ci conosciamo tutti è come una grande famiglia veramente cioè vai ai turni ti senti a casa conosci tutti e quindi hai un senso di appartenenza cioè io appartengo a questo cosa che il teatro per esempio non ti dà non ti dà mai un senso di appartenenza sei sempre in bilico sul niente sul nulla sul sull'incostante e quindi io devo molto al doppiato devo dire sono molto felice di fare quello che faccio ok bene bene allora adesso abbiamo invece una una spesa di domande una spesa di domande però abbiamo anche una sigla che ci riporta un po' in quei posti di mare che la facciamo partire le domande della chat le domande della chat le domande della chat le domande della chat Andrea è bellissima la nostra sigla personalizzata ce l'abbiamo solo noi quindi grazie Davide che ce l'ha fatta insomma dopo grazie grazie Davide questa volta ha fatto no è molto bella è carina dai è un po' mette allegria su niente Laura non si esprime allegria no io mi esprimo è molto carina è molto carina vero oh meno male meno male mi è venuta subito voglia di ballare esatto esatto bene bene e c'è la prima domanda in assoluto di Tommy ma dopo vedo che anche la nostra fanpage la fa e chiede buonasera al man Andrea Luciano Luciano quello sei diventato Luciano sei diventato Luciano va bene e a Laura ti chiederei del doppiaggio nei due fantagenitori quindi anche la voce di Trixie in due fantagenitori quindi che cosa ci puoi dire a riguardo che è stata una voce che ho mi sono inventata sono andata al turno e ho detto ma come la faresti e io la farei così e mi hanno detto fichissima vai falla così e poi pensa che adesso fra l'altro vent'anni dopo l'abbiamo ridoppiati tutti ed è stata è stata tosta perché poi la voce negli anni cambia quindi è stata tosta rifare questo pesante però è andata bene ok è andata così Trixie perché poi lei in originale non ha questo poi questo questa voce proprio che poi le ho dato io questa connotazione che le ho data io ok dimmi che sono carina di cominciare dimmi che sono carina dimmi torre stupendo perché nei film live action Trixie non ci sia ma perché hanno fatto dei film live action non c'è per ora non c'è per ora ci sarà molto presto ma non sapevo dei film live action si si hanno fatto dei film live action tra l'altro con anche canzoni messe lì vabbè tralasciavamo il discorso live action va bene è ancora una ferita aperta è ancora una ferita va bene non l'affrontiamo allora mister Lannister buonasera il grandissimo mena ragazzi alla nostra gradita ospite di questa sera alla quale vorrei chiedere se può raccontarci qualcosa del lavoro fatto in Heroes sul personaggio di Maya Herrera ah quello è stato è stato molto complicato è stato molto complicato perché lei aveva un accento spagnolo e aveva delle parti la difficoltà di quel personaggio è stata io ho vinto il provino anche perché sia perché sono riuscita a riprodurre vabbè la mia voce era molto simile a quella del perché lei parla spagnolo in alcune parti che l'ho dovuto tenere originale quindi la mia voce era simile alla sua e poi soprattutto sono riuscita a riprodurre il suo accento spagnolo quindi mi ricordo vinsi il provino per quello ed è stato molto difficile quello è stata un personaggio che mi ha molto messa alla prova però avevo un grande direttore Gianni Galassi che mi ha dato mi ha aiutato mi ha dato delle dritte mi ha saputo condurre mi ha aiutato molto e quindi sono riuscita a fare veramente a dare il massimo quello che dicevo appunto l'importanza del direttore è vero è vero buonasera a me Andrea Will buonasera Laura grazie per essere qui con noi vorrei chiederti di poi parlarci del doppiaggio di Teresa Diaz in DOC eh quello è stato e quello è stato appunto Luca Ward che mi ha voluta fortemente per quel personaggio perché e quello è stato è stato uno dei personaggi che ho amato di più quello di Teresa e una molto controverso era diciamo proprio l'opposto del di Marissa no lei appunto così la ragazza acqua e sapone io invece la la sudamericana caliente anche la diversità della voce della mia e quella e quella di di Valentina Mari perché avevo la mia una voce più sporca più più calda la sua pulita quindi è stata è stato un bellissimo personaggio anche per quello perché era un personaggio di rottura diciamo la cattiva della situazione e a me non piace fare le cattive devo essere sincera anche se me l'hanno fatta fare parecchie però ecco non è stato un bellissimo personaggio a cui sono molto legata Laura puoi raccontarci qualcosa del doppiaggio di Angie in Shark Tale prima l'abbiamo accennato o qualcosina però Angie quello è stato un'altra un'altra bella cosa un'altra un altro grosso provino che vinsi ancora me lo ricordo Angie è stato è stata anche quello un personaggio è stato un connubio felice con Marco con Marco Mete lui è stato molto bravo a darmi perché io ho appunto un tipo di voce che è può doppiare appunto personaggi come Pamela Anderson quindi essere una voce molto calda però per quel personaggio non questo tipo di caratteristiche non le doveva avere doveva essere la pura della situazione la fidanzata quella che poi lo appunto lui è preso dalla dalla bellona eccetera eccetera però poi in realtà appunto alla fine si innamora di lei e della sua purezza della sua carineria quindi mi ha fatto tenere la voce molto molto leggera mi ha fatto lavorare su questi toni molto leggeri quasi da bambina però nello stesso tempo siccome lei era doppiata in originale da René Zellweger René Zellweger aveva ha delle caratteristiche nella voce delle rotture nella voce che fanno parte anche della mia voce quindi doveva essere un personaggio estremamente pulito estremamente bambino estremamente dolce la fidanzata la situazione la ragazza della porta accanto appunto però con delle piccole rotture di voce delle non la voce sempre pulitissima e questo in Marco è stato bravissimo bravissimo come solo lui sa essere a sfruttare tutte e due le mie caratteristiche e qui come non mai probabilmente vive la tua affermazione iniziale su Marco che riesce veramente a far doppiare chiunque sostanzialmente e in questo film ha fatto realmente doppiare chiunque esattamente no io non so come ci sia riuscito perché voglio dire è riuscito a fare dei miracoli su quel film veramente che ti dice madonna è eccezionale mi ricordo che con Marco feci anche surf il mio inglese surf 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 che poi nella vita nella vita ricorrono e l'altro protagonista di surf era appunto Luca Ward che faceva il romanazzo quello pieno dei tatuaggi quindi vedi corsi e ricorsi no doppiavo la pinguina e quello è stato un altro bel film che feci con Marco allora andiamo avanti vorrei chiedere a Laura se può raccontarci qualcosa del doppiaggio di Ania nella serie tv the 100 ecco quello per esempio è stato un altro di quello sono fiera vi dico perché perché Dicken Lachman mi ha scritto un messaggio su Instagram che io ovviamente ho postato giustamente ovviamente ovviamente in cui mi ha detto che con la mia voce lei era ancora più brava lì niente proprio avete presente le cose da pavona proprio il pavone ebbene che le era piaciuta molto che le era piaciuta molto e che con la mia voce era ancora più brava quella è stata è stata una sfida perché quella è una cattiva che però poi diventa diciamo buona ed era una ho dovuto tenere la voce sempre molto bassa sempre molto cattiva perché lei era una dura una tosta e quindi è stato molto faticoso perché in quel periodo faceva solo tutti i personaggi così quindi passare da a quel personaggio così cazzuto passatemi il termine è stato molto difficile molto difficile sì molto difficile bello però un personaggio stupendo anche quello veramente un personaggio stupendo Laura tra tutti i personaggi a cui hai dato la voce quale senti quale o quali senti più simili a te a livello caratteriale guarda a livello caratteriale guarda c'è stato un personaggio che ho fatto ultimamente in The 90 Show con la direzione di Roberto Cammino che è veramente un altro bravissimo direttore devo dire che è questa mamma pazza scatenata che mi combina di tutti i colori comica che è buona una buona che però appunto per questo suo modo di fare viene sempre fraintesa ed è simpaticissima è quello l'ho trovato uno dei personaggi più divertenti e più simili per tante cose a me peraltro l'ho fatto di recente di The 90 Show e poi una serie di Netflix uscita poco tempo fa e con Roberto siamo tanto divertiti lui ha dato delle belle tritte è veramente un bravo direttore è una persona molto simpatica si guarda Roberto è tra l'altro un uomo di una di grandissima cultura grandissima cultura però ovviamente non si ed è ha dei gusti musicali ed è un conoscitore ha una cultura musicale vastissima e un gusto molto raffinato è vero la smettete per favore di inviarmi i meme su di me grazie questo lo posto domani su Instagram non me lo faccio vedere però è no ci devi far vedere pure questo va bene me lo faccio vedere si divertono perché fanno sti meme allora fammi aprire dove sta ve l'avete inviato su Telegram maledetti questo riguarda me e gli sciacqui al colluttorio diamo anche il contesto ma perché gli sciacqui al colluttorio perché si divertono a fare gli screen e poi a creare le roba adesso ve lo faccio vedere condividi schermo finestra eccolo qua quindi mamma ho comprato il colluttorio ricorda degli sciacqui mi hanno fatto lo screen mentre bevevo quanto vi piace sono il vostro il vostro soggetto preferito la verità si sei la loro base è mia preferita è bellissima mamma sono bravi sono bravi sono bravi ragazzi smettetela scegliete anche guarda c'è anche Andrea Willow su cui potete divertirvi sappiate ma no ma perché fare questa cosa esatto vengono meglio sei la loro base meme preferita perché far cambiare adesso questa cosa dicono che sono un cartone animato vivente la prendo come The Meme Under The Hood esatto The Meme The Meme Under The Hood esatto The Meme Under The Hood è bello altra domanda puoi raccontarci qualcosa del lavoro fatto sui dialoghi di The Last of Us eh quelli sono stati tosti 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 è stato molto difficile poi tra l'altro di solito le serie vengono affidate a due adattatori anche tre quella l'hanno data tutta a me è stato molto complicato tra l'altro per fortuna io non ci avevo giocato in pandemia praticamente mi ero spaccata con quello però cosa succedeva che io mi ero spaccata con il videogioco però in inglese non in italiano quindi quando sono andata dove l'ho dovuto adattare ho detto cazzo ma mi ci sono spaccato in pandemia ma potevo farlo quello spaccato in italiano non in inglese però è stato molto complicato perché appunto ho dovuto fare parecchie ricerche e ho sono devo dire ho avuto un collaboratore eccezionale che è il mio traduttore che è Federico Manuti che è fra l'altro anche fanico del doppiaggio che mi ha dato veramente una grande mano mi ha aiutata tantissimo abbiamo fatto tantissime ricerche abbiamo contattato il fan club non potevamo non potevo sbagliare e quindi ce l'ho messa tutta ed è stato molto difficile sia perché il linguaggio non potevo non potevo uscire da certi canoni e soprattutto perché loro parlavano velocissimi a velocità supersonica e far entrare su quelle bocche concetti così complicati usando parole che non potevi scorciare perché erano quelle è stato veramente difficile veramente complicato quando appunto dice eh però per esempio si parla di un dialogo italiano e si dice eh però perché l'adattatore ha cambiato la perché purtroppo bisogna arrivare a tu hai davanti molti compromessi devi fare i conti con il sync e l'inglese che è diverso in questo caso l'inglese l'inglese che ha comunque una resa diversa dall'italiano il le labiali quello che vuole il cliente perché mettiamo un conto anche di quello che vuole il cliente non sempre con lì ma con quello che vuoi tu o con quello che vuole il direttore o con quello che vuole la società di doppiaggio quello che vuole il cliente è una cosa che tu devi rispettare perché hai il cliente quindi hai una serie di variabili con cui devi fare i conti che devi mettere tutte insieme e alla fine viene fuori un adattamento che per fortuna è venuto bene ma non ho vissuto per due mesi praticamente vivevo io io e cioè mi sarebbe molto piaciuto vivere con Pedro Pascal devo essere sincera è bene chi lo dici purtroppo immaginiamo ci ho vissuto soltanto però ecco soprattutto la bambina è stata molto complicata da adattare perché lei va a parte di una bravura indicibile e farle entrare le cose in quella bocca è stato veramente complicato complicato e poi è uno di quei prodotti no prima parlavamo del signor Ianelli con Bayerano è uno di quei prodotti della stofaz che è diventato che fa parte della cultura pop dal videogioco esatto il primo titolo ha spopolato veramente tantissimo il secondo partiva già con delle aspettative e quindi ogni valutazione sul secondo è condizionata da quello che hai vissuto nel primo esatto e quindi la serie arrivava su tra l'altro un altro annuncio ovvero il fatto che avrebbero riportato la stofaz anche sulle nuove console quindi sulle console di nuova generazione cioè era un insieme di annunci che ha portato i fan a fomentarsi come non mai praticamente e c'erano quindi tutti gli occhi puntati poi nel mezzo c'è stata la situazione insomma dello sciopero quindi mettiamoci anche quella che è stata insomma sono state tre settimane dure quindi finito lo sciopero a recupera tutto quello che sono i tre settimane non hai fatto quindi no devi fare presto ce lo devi dare di corsa perché dobbiamo doppiare 85 puntate insieme è stato drammatico questo è l'esempio pratico del per quando serve per ieri esattamente a fine sciopero è stato ancora ancora stiamo ancora stiamo con l'acqua alla gola proprio con l'acqua alla gola sì allora c'è felice che ti chiede Laura c'è un personaggio di una serie o di un film che hai odiato doppiare o che hai amato doppiare o che hai amato doppiare ma di cui si parla poco quindi questa è una tripla domanda in una quindi ti chiede il personaggio che hai esatto un personaggio che ha odiato doppiare o che hai amato doppiare o che hai amato doppiare però di cui si parla poco allora ho amato doppiare tantissimo e qui si è beh poi proprio poco ma sì se ne è parlato poco perché è stato un film per esempio mi ricordo è un personaggio molto è stato un personaggio molto complicato che ho una una cattiva vera psicopatica il film era un film Netflix che si chiama Un marito fedele è stato che è stato per un po' di tempo tra i più vissi di Netflix però ovviamente essendo stato un film è durato uno spazio di un mattino insomma il periodo che è stato tra i primi di Netflix poi ovviamente non se ne è parlato più e quello mi è ecco è stato un personaggio che io ho amato molto molto difficile in cui ho fatto veramente una prova d'attrice molto importante una gran prova d'attrice cioè proprio mi ha proprio tolto il sangue quel personaggio e quindi questo può essere quello che ho amato e che però di cui si parla poco quello che ho odiato di più è difficile perché io li ho amati tutti i personaggi quindi non ti saprei dire non ti saprei dire un personaggio che ti ho odiato che ho amato molto e per esempio un dei personaggi anche che ho amato molto è quello di il house ho doppiato insomma era elizabeth elizabeth razor che era appunto una delle sorelle che animava tutta l'azione di il house che è questo o questo horror che di Netflix che è uscito è uscito tre anni fa e quello è stato un personaggio bellissimo che ho amato tanto però quello che ho odiato di più non te lo saprei dire sai perché li ho sempre amati tutti 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 quindi meglio così nel bene e nel male li amo tutti allora altra domanda Laura c'è un consiglio che ti sentiresti di dare a chi vuole intraprendere la strada della recitazione e del doppiaggio allora tanta tanta umiltà tanta tanta umiltà tanto studio studio studiare tanto soprattutto per quanto riguarda il doppiaggio molti non si rendono conto che dell'importanza della dicione io lo vedo molti ragazzi che pensano che una recitazione possa bastare poi hanno una dicione perdibile purtroppo il problema fondamentale di questi ragazzi giovani che si approcciano allo studio del doppiaggio è quello di non valutare l'importanza della dicione allora io dico sempre se tu vuoi fare una maratona hai bisogno delle gambe se non hai le gambe non puoi fare la maratona se vuoi fare il doppiatore non puoi non avere una dicione perfetta e fluida io tuttora prima di andare ai turni comunque faccio gli esercizi se magari ho dormito meno la notte e so che la mattina o magari se dormi poco non parli è matematico è matematico tu non puoi fare la notte brava e poi andare a doppiare scordatelo perché non funzioni non funziona non proprio l'apparato poniatorio non risponde e capire che magari hai dormito meno eccetera io comunque faccio sempre gli esercizi perché la dicione è fondamentale e non viene data la dicione l'importanza che ha fondamentale perché se tu vai a un provino e a un provino hai una recitazione perfetta ma vai una dicione la dici romanaccio con 3b 4p e invece della s di cirazeta non vai da nessuna ma non non passi non c'è speranza proprio non passi quindi ecco mi sento di dire questo per quanto riguarda i ragazzi che si approcciano alla dizione grande umiltà e tanto studio tanto studio determinazione non mollate ragazzi se volete fare questo mestiere non vi fate non mollate se veramente avete la passione per questo mestiere non mollate bene è difficile è difficile è difficile soprattutto adesso è molto è molto più difficile di quando ho cominciato io però non mollate non mollate studiate 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 questo questo mi sento di dirvi fatene tesoro fatene tesoro perché sono insomma consigli molto importanti e il fatto che sia difficile secondo me è necessario in questa fase perché è importante capire fino a che punto arriva la passione e da che punto invece inizia la moda bravissimo hai detto una cosa intelligentissima bravo è già esatto Laura puoi raccontarci qualcosina sul doppiaggio di Rebecca Pop Grace Anatomy quello è stato un personaggio che mi ha dato Giuppi Giuppizzo un altro grande personaggio grande umanamente professionalmente io l'amo amo Giuppi come amo Fiamma io amo loro sono proprio sono innamorata di loro sono persone straordinarie e quello è stato ecco quello è stato un altro personaggio che ho amato molto fino a un certo punto perché quando ha cominciato quando il personaggio ha cominciato a cambiare a diventare insomma come dire molesto ho cominciato ad odiarlo anch'io però il fatto è stato difficile perché il fatto che lei appunto non sapesse chi era la faccia diversa tutte queste caratteristiche da dover mettere nella voce prima quando era malà e poi e poi matura e migliore e poi cambia mille sfaccettature mille cambiamenti è stato un personaggio molto complicato da doppiare però per fortuna c'era Giuppi quindi io non avevo paura per fortuna c'era Giuppi alzo nel vuoto meno male che Giuppi c'è meno male che Giuppi c'è sì sì no veramente per paraprasare come è stato invece doppiare Vidia nei film Disney nel film quello è Vidia è stato la fatina quello è stato quello è un altro personaggio per esempio che richiedeva una voce una voce rotta sporca perché era anche lei era da contraltare cioè da contraltare alle altre quindi è stato bello per quello perché comunque era sempre un personaggio diverso di rottura non era la solita Fatina aveva io amo i personaggi che mi danno per il tipo di voce che ho perché sono sempre personaggi di rottura personaggi che hanno delle caratteristiche ben precise che hanno carattere che hanno una loro collocazione ben precisa e questo mi piace molto che sono personaggi particolari no ho un tipo di voce che non è una voce che può fare l'attrice bionda con gli occhi azzurri per dire come vi dicevo prima quella della porta accanto di un certo tipo una prima attrice perché la mia voce è una voce sporca una voce particolare una voce che ha delle caratteristiche sue particolari e questo mi rende molto felice perché mi dà la possibilità di fare dei personaggi dove c'è ciccia e posso posso anche portare tutto quello che poi ovviamente è il mio bagaglio che mi viene dal teatro che è diciamo un valore aggiunto rispetto perché comunque porti anche il tuo come dire la tua esperienza di attrice in una serie di doppiaggio oltre a quella che è la recitazione del doppiato tu comunque ci metti anche tutto quello che hai anni e anni di teatro per quello che mi insegnò Gigi quando avevo 17 anni quindi insomma sono cose che tu metti nei vari personaggi e appunto vi dicevo Vidi è un altro di questi personaggi che fa da contraltare alle altre particolare più sporco poi questi cattivi cattivi insomma questi personaggi un po' ostici che però poi hanno questo risvolto come dicevo la crostata di prima che però poi hanno questi risvolti che poi sono le più buone di tutti e le più svenee proprio quelle che alla fine si fanno rivoltare vanno sbattare per per tutto è proprio il discorso della crostata di prima il discorso della crostata e adesso c'è la domanda e le domande che l'ha fatto a me ti chiede mamma mia l'ha aspettato ci sono stavo aspettando che la domanda quanto è stata dura fare l'adattamento dei dialoghi nel ridoppiaggio del 2020 di Evangelion no allora la mia pandemia il mio lockdown è stato Evangelion the last of us the last of us Evangelion questa è stata la mia pandemia il mio lockdown ecco Evangelion è stato una delle cose più difficili che abbia mai fatto è stata una responsabilità enorme io quanto ho studiato per fare l'adattamento di Evangelion non si può non si può dire per fortuna anche lì ho avuto un un traduttore che è anche doppiatore che è Roberto Fedele bravissimo fan di Evangelion quindi lui mi ha saputo aiutare mi ha aiutata molto in in molte situazioni devo dire la verità mi ha mi ha dato veramente una grossa mano però avere la responsabilità di un riadattamento di un adattamento che era appunto iconio non so come dire che aveva suscitato tante problematiche tanti tante polemiche eccetera è stata un incubo un incubo e poi soprattutto nel periodo della pandemia che insomma Evangelion è bello sostanzioso è bello per esempio durante il lockdown è stata una bella una bella sfida insomma però mi ha dato tante soddisfazioni io ho studiato tanto quello che ho imparato nel fare il riadattamento di Evangelion è stato non ho imparato in tanti anni di studio mi ha dato tantissimo quel prodotto e mi hanno dato anche tanto i fan che mi hanno ringraziata che mi hanno che ancora mi scrivono e quello è non apprezzo non apprezzo io sono molto felice degli studi che ho fatto e quello che ho fatto perché devo dire la verità non c'è stata una persona che mi abbia criticato o mi abbia detto guarda hai sbagliato sono molto contenta e ringrazio moltissimo i fan che mi hanno seguito e che mi hanno dato ma forte proprio come la precedente la precedente adattamento questa è una domanda che io aspettavo da lì infatti volevo farla poi ho visto che l'ha fatta la chat ho detto no faccio altre domande l'aspettavo dall'inizio perché qui c'è un piccolo spoiler che devo che devo mettere nella frase a breve avremo cioè intervisteremo anche Cannarsi quindi cioè ormai la stiamo covando da un po' questa cosa perché poi c'è stato anche Emanuele Ruzza che è stato uno dei primi a venire qua da noi che al tempo doppiò Evangelion quindi già un po' lì se ne parlò la stiamo trascinando da un po' questa situazione e finalmente avremo un punto di fine a questa storia confrontandoci direttamente con lui con Cannarsi perché poi il suo è stato un lavoro cioè non è che io posso criticare o giudicare il suo lavoro assolutamente lui ha fatto il suo lavoro come ha ritenuto fosse giusto sono i fan qua che hanno decretato che fosse sbagliato io non me la sento insomma di alla sua filosofia di traduzione di adattamento il problema sostanziale era che alcuni periodi erano proprio mentalmente confusi in italiano perciò quello la gente aveva criticato però ripeto la mia curiosità veniva perché quando lo avremo tu di proprio guarda hai fatto un adattamento con dei periodi mentalmente confusi in italiano ma non ho problemi io posso prendergli le clip di quello che dico e fargli sentire le frasi e dire che cosa capisci tu da questo cioè non ci vuole molto mio nipote ha voluto la felpa con la frase quel che io che tu l'ha voluta zia io voglio la felpa gliela ho regalata per Natale sa che è la sua felpa preferita mi fai prima le foto guarda zia la mia felpa preferita insomma vabbè no no però è è bello anche perché sembra facile no dici vabbè vengo dopo un adattamento che è stato criticato in un certo senso gioco facile manco per niente perché dopo un adattamento aspramente criticato la gente si aspetta molto di più esatto quindi è una pressione aggiuntiva al fatto che sia andata male quella precedente ragazzi una pressione mostruosa poi ovviamente avevo 2500 revisione nel senso che devo dire che comunque Netflix è stata molto dietro è stata nel senso che comunque voleva guardava sempre quello che faceva è stato avevo la pressione di Netflix qui proprio la pressione è stata è stata tosta proprio tosta tosta tosto sentivo proprio la pressione la pressione vera sentivo la pressione sì Marstrux ti chiede hai doppiato Bitsy Tullock speriamo che l'ho letto bene Bitsy ok nel ruolo di Lois Lane ma a sorpresa non in Superman né Lois né te né Massimiliano Manfredi puoi dirci come mai ma quelle sai sono comunque decisioni prese da società diverse sono cose il mediaset decide una cosa piuttosto che un'altra preferiscono magari cambiare completamente voci oppure sono anche problemi di impegni nel senso che sei impegnato su altri prodotti che non collimano ci sono problemi di interesse problemi di interesse sbagliato problemi di come si dice quando due prodotti non possono cozzano problemi di che se fai una cosa non puoi fare un'altra non so come si può sapere stavamo facendo entrambi delle cose eravamo impegnati in altre cose e non potevi fare quelle e quell'altra ok ecco praticamente è questo quindi sono state decisioni in questo senso ah ok perfetto sì perché non c'è un nome specifico non ti interesse è stata un'incompatibilità con i vostri impegni sostanzialmente a decretare incompatibilità di impegni dovuti anche a un fatto di tipologia di prodotto ecco esattamente di tipologia di prodotto ok chiaro Chuck's Fire buonasera a tutti buonasera Man Will Andrea buonasera Laura grazie mille per stasera tanti complimenti per il tuo lavoro grazie grazie mille vorrei chiederti della tua esperienza su due lavori la serie Killing Eve e Orphan Black vorrei chiederti anche se oltre che da lavoratrice ti è capitato di vederle qualche volta da fruitrice grazie ancora sì 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 assolutamente sì assolutamente sì mi sono anche piaciute molto ok vedi Killing Eve e Orphan Black io non ho viste devo recuperare sì Killing Eve è una bellissima serie anche Orphan Black è bellissima ok Mr. Lannister ti chiede se puoi parlarci del lavoro fatto su Michelle Broadwin in Basic Instinct 2 ah oh guarda sai che sai che veramente parliamo del allora direttrice Maura Vespini mamma mia Maura Vespini è una grandissima direttrice grandissima adattatrice ha fatto i più grossi film ma tutti i film di Woody Allen come direzione non come adattamento come direzione ha fatto tutti i film di Woody Allen come adattamento tutti gli ha fatti sia come ah no sentivo un riverbo come adattamento direzione adattamento tutti tutti quelli che ha fatto ha fatto anche l'adattamento e quello è stato mamma mia è una direttrice molto molto dura molto ostica quindi sono andata a doppiare quel personaggio con una paura non parlavo a leggio non parlavo ma piano piano finalmente mi sono sbloccata anche perché se no il turno non procedeva però a un certo punto ho detto senti dico Maura io ho una specie di timore reverenziale abbi pazienza tu devi devi avere pazienza con me ti prego e quindi da lì in poi sono riuscita a sbloccarmi a fare un altro bel personaggio di tanti anni fa mi ricordo sì beh allora raga facciamo le ultime due domande e poi chiudiamo perché non possiamo sequestrare i nostri ospiti e poi chiediamo a Laura se vuole fare quella cosa con cui noi finiamo la chiusura della live per un'ultima domanda quindi Laura puoi raccontarci qualcosa dell'adattamento dei dialoghi fatto sulla serie Desperate Housewives i segreti di Wisteria Lane quella è stata una serie meraviglia ma lo sapete che quando l'ho finita io ho pianto come una bambina otto anni otto anni di serie una cosa proprio l'ho amata alla follia con tutti quei personaggi e Bri e il personaggio della Longoria è stata una delle cose più belle che io abbia mai fatto è stato una cosa adattare quella serie è stata la cosa più bella della mia vita una delle cose più belle della mia vita infatti è stata una delle prime cose importanti che ho adattato per la CVD mi ricordo è stato proprio lì mi ricordo Morville che era all'epoca appunto Buenavista Disney eccetera mi prese sotto la sua ala mi diede un sacco di consigli mi ha insegnato mi insegnò tantissime cose e mi ricordo che mi ricordo e mi fece fare fece un rifacimento ancora me lo ricordo era su non mi ricordo il personaggio il personaggio di lui diciamo il bello della situazione che era non mi ricordo il nome lo doppiava Pucci non mi ricordo il nome mi ricordo che io adattai non accettò un no come risposta fece rifacimento perché mi disse Laura questo è un calco dell'inglese non va bene in italiano noi non lo diciamo e mi ricordo che fece rifacimento non accetto non accetto un rifiuto o ogni volta che mi capita se non accetto un no come risposta che è proprio una frase proprio la traduzione letterale dell'inglese mi ricordo ancora sta cosa che mi disse Morville e non ho fatto mai più questo errore un errore che poi per alcuni può essere un errore per altri no però ormai io accetto un no come risposta nei miei adattamenti non lo trovate mai mai più mai più il trauma il trauma il trauma è stato traumato e no Laura guardi un rifacimento perché questo è un calco dell'inglese quindi accetto un no come risposta non va bene accetto un rifiuto allora come ultima domanda reggo questa perché si parla di una serie che io amo quindi come ho letto il nome della serie mi fermo e si parla di Scrubs ci chiederemo se puoi dirci qualcosa riguardo proprio il lavoro che hai fatto su Scrubs Scrubs è stata un'altra cosa difficile ecco anche grazie a quello ho vinto un grosso premio che è stato il premio proprio il premio si ha come migliore adattatrice giovane adattatrice insomma ho vinto veramente un grosso premio molto importante e molto difficile perché era tutto basato sui giochi di parole e mi ricordo che c'era poi un gioco di parole molto complicato che era su Carrie Underwood che era una cantante e su un termine inglese che sembra fosse Underwood che voleva dire che era una cosa praticamente sessuale piuttosto sporca e lì dovete trovare una soluzione per riuscire a far collimare il nome della cantante Carrie Underwood con questa cosa tipo ero molto arrapata una cosa del genere adesso non mi ricordo nel specifico e mi ricordo che quello fu una cosa che io ho detto no ma io adesso come ne esco da questa cosa e quello è stato uno dei mille giochi di parole che aveva Scrubs e quello è stato veramente insomma mi ha fatto arrivare al premio perché è stato molto difficile che serie stupenda che serie stupenda lavorazione particolarissima poi c'è stato raccontato da Alessandro Quarta sì perché poi cambia la direttore poi quella e poi cambia la società e cambia del quadro e del macello ha avuto una storia complicatissima intricatissima quello Scrubs c'è stato detto adesso facciamo nascere queste faide a distanza c'è stato detto che Carlo Cosolo venne escluso dalla cena che organizzarono Alessandro Quarta Nanni Baldi insomma la loro la gombriccola diciamo così che faceva casino a Leggio e che quindi venne poi divisa ma tu facevi parte hai preso parte a questa cena o no? no aggiungiamo la lista c'è una no ero della lista nera non sono stata convocata neanche io quindi eri eri team Cosolo a questo punto ero del team Cosolo evidentemente mi hanno estromessa da questa cena di ritarguirò adesso siamo un anno dico scusate no me dovete spiegare perché mi avete estromesso da questa cena esatto esatto che bella noi abbiamo avuto poi anche Carlo Cosolo abbiamo sentito anche l'altra dice facciamo casino che non si riusciva ad andare avanti perché per le troppe risate perché all'epoca si doppiava anche 3 4 a Leggio cosa che adesso non succede più adesso da solo da solo sei sempre da solo in colonna separata e va lì da solo mentre allora invece 4 a Leggio non si poteva era così divertente era divertente riuscivi anche a recitare meglio perché era botta e risposta botta e risposta adesso questo non esiste più non esiste più purtroppo e vabbè pazienza è cambiato è divertente da essere divisi in quell'occasione come a scuola esatto io mi immagino io mi immagino tipo scolaresca con Alessandro Quarta che ragazze fanno casino e cosano tipo il professore dal pugno di terra esattamente questo cioè voi mettete insieme Alessandro Quarta e Nanni Baldini a Leggio per sapere che cosa può avvenire fuori una esplosione sì però fatti dire che questa cosa poi si è percepita anche guardando comunque il rapporto tra Turk e JD perché alla fine è stato bellissimo poi poterli sentire interagire in quel modo e si vedeva che erano proprio Mimì e Cocò Mimì e Cocò sì sì va bene va bene allora io direi stop alle domande della chat che sono state tantissime insomma non le abbiamo lette tutte però mi ha fatto piacere leggerne insomma il più possibile e chiediamo a Laura questa cosa noi chiudiamo le nostre live ovviamente chi vuole farlo con un video saluto a noi e al canale questo perché perché questo video saluto andrà poi a comporre quella che è una sigla con cui iniziamo tutte le nostre live ormai siamo alla quinta sigla è un modo insomma per ricordarsi ci è venuto in mente sentendo la radio non so se tu ascoltavi Radio Italia quando fanno ciao sono Radio Italia sono Laura Pausini anche ascolto Radio Italia partiamo da sta cosa e vediamo che succede quindi poi ci sono stati chi ha disegnato chi ha cantato chi ha fatto parla ai pupazzi chi ha detto solo questo va benissimo tutto quello che vuoi fare se a te va bene mi piacerebbe poter concludere fantastico allora io cambio schermata ti metterò grande adesso eccomi tolgo anche il nome perché poi dopo al montaggio lo togliamo e dirò 3 2 1 quando vuoi poi parti quando sento che sei 2 3 secondi in silenzio poi ritorno e cosa devo dire quello che vuoi quello che vuoi puoi dire sono 3 deficienti saluto il canale Man Under The Hood tutto quello che desideri dire insomma non c'hai allora fammi andare a registrazione 3 2 1 vi saluto vi saluto tutti voi 3 siete fantastici ma man che fa i gargarismi è veramente il top ciao bellissima e Mauro mi hanno mandato in anteprima un altro meme che io spero ti arrivi io spero ti arrivi adesso adesso mi deve arrivare che meme raga avete rotto le scatole però questi meme fammi vedere che meme hanno inviato il meme dopo il live talks con Laura esattamente quello cioè va mostrato lo devo far vedere in finale Laura ti faccio l'ultima cosa che questi se sono ingegnati stasera erano particolarmente ispirati allora dove state me la gargarismo man hanno messo allora eccolo qua adesso ve lo metto in video condividi schermo finestra ecco il meme dopo il live talks con Laura cos'è mi avete fatto il codino è bello bello ma guarda poi guarda le foto che le prendono cioè sto veramente sto facendo qualcosa che mi impegna no questo è stupendo questo è stupendo questa è questa è la migliore no tu che fai con il dance ne faremo dei poster no questo è meraviglioso va bene questo è meraviglioso stendiamo un velo pietoso sui meme stasera veramente pessimi che più pessimi non si può veramente vergognatevi vergognatevi domani domani ti condivido anche nelle storie così chi non era in live vedrà ste cose e non capirà il contesto può goderne può goderne esatto allora andiamo in chiusura è la serata meme esatto andiamo in chiusura è ovviamente è stato un bellissimo live talk ringraziamo come al solito tutti voi che ci avete seguito che si è connesso prima dopo ovviamente chi ci ha seguito dall'inizio è un ringraziamento ancora più grande ringraziamo i mod i miei streamer di questa sera a cui aggiungo di nuovo i nomi ovviamente perché glieli ho tolti no ci dai i nomi sei contento grazie ma come sei grazie a Willow e a Erna però il grazie più grande va a Laura Laura grazie mille siamo stati benissimo speriamo che ti sia trovata bene grazie a voi io anche tantissimo grazie infatti in chat già stanno scrivendo ragazzi bellissima serata grazie speriamo di rivederti presto su questi lì di Laura perché noi di tanto in tanto anche perché io devo aggiungere che è doveroso che una delle cose che sto amando di più è che sta curando la campagna pubblicitaria per il lancio del disco di questi trapper che si chiamano Love Gang 126 e questa è una cosa che veramente mi piace da pazzi e quindi e quindi no tenevo a dirlo hai fatto bene fighissimo sono questi trapper insomma che sono 126 Love Gang 126 che sono tutti insieme non mi ricordo tutti i nomi perché poi appunto sono un disastro però ecco tengo a dirlo perché è stata una è una campagna pubblicitaria molto molto bella che mi è piaciuta molto figo figo è una cosa molto bella hai fatto bene a dirla in finale perché andrà a cercarli andrà a cercarli poi sono curioso Love Gang 126 Love Gang 126 ok Laura faremo una Laura faremo una petizione per farti entrare nel cast di Mari Fuori mamma Chiari guarda io sto vivendo un maraforo un maraforo una classaccia ci proviamo ci proviamo dai vediamo che si può fare quindi vado nella prigione faccio che ne so faccio un attimo una guardia che passa ma va bene una guardia che passa una guardia che passa noi ci vediamo vi auguriamo ovviamente un buon weekend ci vediamo prossima settimana la programmazione uscirà domani in anteprima su telegram e domenica mattina su instagram nelle storie come di consueto ci saranno due talks non vi svelo niente uno sul doppiaggio uno sulla comicità con un duo possiamo dire un duo eh vi dico solo che tu dimmi quello che devo fare e io lo faccio e io lo faccio va bene però ci vediamo prossima settimana insomma per parlarne insieme buon weekend a tutti grazie ancora Laura grazie un abbraccio ciao ciao